Istruzioni per l'uso Meditec Spirometro Misurazione formale Immissione delle informazioni sui campioni di prova Fare clic su Aggiungi nuovo elemento di prova Inserisci il nome, la data di nascita, l'altezza, il peso, il tempo, il fumo, ecc. Fare clic su Salva dopo l'inserimento Il campione di prova è posizionato in posizione verticale. Le clip per il naso devono essere posizionate su entrambi i lati del naso del soggetto. Inserire il boccaglio in bocca Racchiudere le labbra con il bocchino Assicurarsi che non fuoriesca aria dal naso e dalla bocca Assicurarsi che la lingua non tocchi il boccaglio durante il Esame FVC Selezionare il campione di prova sull'interfaccia del sistema Fare clic su FVC Accedere all'interfaccia di misurazione Avviare la misurazione Procedura del test FVC Per prima cosa respira con calma per 35 secondi Quindi inspira con forza al massimo Ispirare l'aria ispirata alla massima velocità e nel più breve tempo possibile Trattenete il respiro il più a lungo possibile per 6 secondi per garantire che tutta l'aria venga ispirata Nessuna pausa e nessuno scambio d'aria nel mezzo Dopo aver ispirato tutta l'aria Inspira rapidamente e con forza fino alla fine Il numero di campioni è generalmente compreso tra almeno 3 e fino a 8 volte Prova WC Selezionare il campione di prova sull'interfaccia del sistema Fare clic su WC Aprire l'interfaccia di misurazione e avviare la misurazione Per prima cosa respira in modo uniforme almeno 3 volte Inspirare con forza al massimo Ispirare l'aria ispirata alla massima velocità E poi tornare alla respirazione libera e uniforme Prova MW Selezionare il soggetto del test nell'interfaccia del sistema Clicca su MW Aprire l'interfaccia di misurazione e avviare la misurazione Respira rapidamente e profondamente per 12 a 15 secondi Proprio come ansimare dopo l'esercizio Test di provocazione e test di dilatazione Passaggio 1 Progettare lo schema di dosaggio Fare clic su Siediti Fare clic su Gestione Pharma Selezionare Provocazione o Diastole Aggiungi il nome della prova e i passaggi della prova e fai clic su Salva Salvare il regime di dosaggio Passaggio 2 Determinare la funzionalità polmonare prima del trattamento Fare clic su Test farmacologico Selezionare test di provocazione o test di dilatazione Fare clic su Prima della medicazione Eseguire misurazioni della funzionalità polmonare basale Misurare dopo la misurazione FVC Passaggio 3 Misurazione della funzionalità polmonare dopo l'assunzione del farmaco Dopo che il paziente ha inalato il farmaco Nell'interfaccia del sistema Fare clic su Dopo la medicazione Selezionare il nome del programma e il passaggio Testare la funzionalità polmonare del soggetto dopo il trattamento Rapporto sul test di funzionalità polmonare Dopo che il test è stato completato Il sistema seleziona automaticamente la curva ottimale E valuta la qualità delle curve Clicca sulla conclusione Inserisci il parere del medico Torna all'interfaccia principale Fare clic su Stampa S Torna all'interfaccia principale 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 Grazie a tutti